La mia linea sarà quella della prevenzione ed educazione stradale da una parte e quella dei controlli dall'altra. La tenuta della legalità passa anche attraverso il rispetto del codice della strada. Alfredo Petrocione, nuovo capo della Polstrada di Avellino, si presenta a conferenza stampa presso la sala Manganelli della Questura. Petrocione prende il posto di Renato Alfano. Il neo capo della Polstrada promette più pattuglie in strada, più controlli soprattutto per contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti. Toleranza zero inoltre nei confronti di chi non indossa il casco, le cinture di sicurezza o usa il telefono alla guida. Per quanto riguarda le arterie, poche le criticità riscontrate. Abbiamo riscontrato alcune criticità, diciamo, ordinarie nelle arterie di competenza legate essenzialmente a attività manutentive che sono ovviamente imprescindibili. A parte questo quindi non riscontriamo delle criticità, come dire, emergenziali. Le criticità viste sono, come detto, assolutamente normali e quindi conseguentemente dobbiamo monitorarle attraverso le pattuglie, attraverso gli enti proprietari e concessionari, ridurre al minimo i disagi, quindi coordinarci al meglio al fine di ridurre al minimo i disagi per l'utenza coinvolta. Petrocione traccia anche un primo bilancio del periodo estivo, tutto sommato tranquillo sulle strade irpine. Diciamo che arrivati alla data odierna possiamo fare un primo bilancio di quella che è la stagione estiva, una stagione sicuramente particolare. I flussi di traffico sono comunque stati in ripresa dopo il periodo, il duro periodo del lockdown. La nostra provincia è stata direttamente interessata a flussi turistici che sono arrivati per lo più dalle province limitrofe ma anche da altre regioni d'Italia. È una stagione sostanzialmente, un bilancio sostanzialmente positivo della stagione. La nostra presenza è comunque massiva, abbiamo effettuato dei controlli e abbiamo proceduto anche rilievi degli incidenti che fortunatamente sono stati in numero tutto sommato contenuto.